La Giunta Torquato ha approvato la proposta di RUEC, il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. Ora il provvedimento passerà in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. Il RUEC è lo strumento valido, a tempo indeterminato, che individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. In conformità alle previsioni del Piano Urbanistico Comunale, definisce i parametri edilizi ed urbanistici. Inoltre specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale e le attività delegate al Comune in materia paesaggistica. L'amministrazione comunale, si legge in una nota, dopo i ripetuti incontri con le commissioni consigliari e le riunioni con i gruppi di maggioranza valutate le proposte, ha operato affinché il regolamento documento seguisse l'iter di approvazione. L'urbanistica, ha dichiarato il sindaco Malio Torquato, è attività delicata, fatta di confronto, ma anche di decisioni. Il confronto è stato lungo ed elaborato e richiede rispetto delle procedure istituzionali e di leggi, cui non intendiamo rinunciare. L'aggiunta comunale ha anche dato il via libera al nuovo regolamento dei Dea Orse, il disciplinare che regolamenta l'occupazione temporanea delle aree e del suolo pubblico per gli spazi di ristoro all'aperto. L'amministrazione comunale, sottolineano dal Comune, con questo strumento intende riconoscere la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini e ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città. Il regolamento rappresenta la volontà concreta dell'amministrazione Torquato di garantire in maniera disciplinata la vivibilità piena della città di Nocera inferiore ai suoi cittadini. I due provvedimenti approvati dall'aggiunta hanno però provocato una polemica interna ad una parte della maggioranza. Il consigliere comunale Giancarlo Giordano, presidente della Commissione Lavori Pubblici, ha manifestato il suo dissenso sostenendo che il sindaco ha prevaricato il lavoro delle commissioni e dei commissari, non avendone rispetto. Non riesco a capire, ha continuato Giordano, come mai questa presa di posizione del sindaco a fronte del lavoro svolto dalla maggioranza e dall'opposizione in sede di commissione. Tra l'altro, ha continuato, nell'ultima seduta della commissione hanno partecipato ai lavori alcuni tecnici pronti a dare un contributo. Niente da fare, il sindaco, senza dire nulla, va in giunta e approva il regolamento, strumento importante per il futuro urbanistico della città e per le relative autorizzazioni collegate all'attività urbanistica. Giordano ha annunciato che il consiglio comunale non lo voterà.